Se a Mondragone termina la zona rossa con il rientro dell'emergenza, in Ierpinia si cerca di fronteggiare i possibili focolai. La provincia arriva quasi a quota 13 in quattro giorni, ma l'escalation ora sembra frenare. Ieri il secondo caso a Moschiano, dove il sindaco ha obbligato alla mascherina e l'Asla ha avviato uno screening. Intanto all'ospedale Moscati ritorna il caos. Sembrerebbe che nonostante il transito dei pazienti contagiati, il riparto non sia stato sanificato e che non ci sia più la corsia riservata al Covid. La denuncia arriva da Tony Della Pia di Rifondazione Comunista. Noi abbiamo accolto la denuncia di alcuni operatori del 118 che in buona sostanza affermano che sia durante il periodo di crisi Covid, quello più acuto, che ancora oggi gli operatori del 118 percorrono le stesse strade per l'ingresso all'ospedale di altri pazienti che purtroppo hanno bisogno del pronto soccorso. Noi riteniamo questo un fatto molto grave perché soprattutto vista l'incidenza negativa che ha sulle persone il Covid-19, pensiamo che una struttura sanitaria di quella portata avrebbe dovuto organizzarsi in modo efficace e più sicuro sia per gli operatori stessi e sia per i pazienti. Noi come Rifondazione Comunista solleciteremo i vertici, ma nello stesso tempo, così come stiamo facendo a livello nazionale, chiederemo un cambio di passo radicale rispetto alla sanità, che è un bene comune e quindi non va trattato con una vena aziendalistica, ma va trattato per quello che è un servizio pubblico che deve essere gratuito e democratico.